Salve a tutti ragazzi, qui è vostro Sirikon92 e ci ritroviamo oggi in un nuovo video su Vanguard Warzone Black Ops In pratica ragazzi, oggi ci ritroviamo qui su una guida su come buildare le armi sia di Cold War che di Vanguard Perché ho deciso di fare questo video? Perché io ho un reggimento, se volete entrare mi raccomando nei commenti In cui sono quello che più o meno dà i settaggi ai miei amici E mi sono trovato in questi giorni molte persone che mi chiedono come faccio a buildare la cappa di Cold War O come faccio a buildare il Vargo 52 O anche come faccio a buildare l'Owen o il Type 100 o un assalto di Vanguard E quindi ragazzi, ho deciso di fare questo video e vi spiegherò tutto Vai! Quindi ragazzi, che cosa andiamo a fare adesso? Andiamo a prendere un fucile d'assalto di Cold War In questo caso andiamo a prendere la cappa 47, ok? E andiamo a settarlo come si deve Allora ragazzi, imparate una cosa Per le armi di Cold War possiamo utilizzare solo 5 accessori E sono sempre gli stessi Allora accessore numero 1 La volata Allora vedete bene ci sono due silenziatori Quello normale E poi c'è o il silenziatore Gru o il silenziatore Agency Dipende dall'arma Quindi il silenziatore normale lo utilizziamo per le mitragliette O per gli assalto che vogliamo utilizzare come sniper support Quindi che andremo a buildare come una mitraglietta appunto E il silenziatore Gru o Agency andiamo a utilizzarlo per gli assalti puri Quindi silenziatore Gru Secondo elemento Dobbiamo mettere per forza una canna Ed anche in questo caso abbiamo una sola scelta Ed è sempre l'ultima canna Allora in questo caso sulla cappa è la RPK Spetsnaz Ma di solito è la Task Force O per esempio se non ricordo male Sul Krieg si chiama Millispec Ma comunque è sempre l'ultima Ed è quella che vi dà più controlli in rinculo Orizzontale e verticale Portata e velocità danni Quando trovate queste quattro cose Scritte nei vantaggi della canna È quella giusta Terzo accessorio Andremo a mettere un'ottica Che sulle armi di Cold War sarà sempre la Xialarm x3 Quarto accessorio Andiamo a mettere le munizioni E in questo caso abbiamo due scelte Allora la scelta è tra i 45 normali O i 60 normali Vi spiego subito È vero che abbiamo il caricatore da 45 normale e rapido Il problema è che i caricatori rapidi Vi velocizzano il cambio caricatore Ma vi rallentano l'entrata in mira A livello di portata e danni non vi cambia nulla Quindi io preferisco entrare meglio in mira Che cambiare il caricatore più velocemente Anche perché la differenza è veramente poca Quindi io vi consiglio in singolo o rabbit Il caricatore da 45 Se giocate in quartetti Il caricatore da 60 normale Quindi non l'ultimo Ma il normale questo E come ultimo accessorio Andiamo a mettere un'impugnatura Per il controllo del rinculo Ed anche in questo caso abbiamo una sola scelta Allora per alcune armi è l'impugnatura Spetsnaz Per altre armi è il Field Agent Come andrete a riconoscere questa cosa È quasi sempre la penultima Ed è l'unica che vi controlla Sia il controllo orizzontale Che quello verticale Quindi ragazzi Questo è il modo per buildare Un fucile d'assalto di Cold War Se per esempio vogliamo fare Lo stesso fucile ma in sniper support Andremo a cambiare alcune cose Quindi prima cosa come abbiamo detto Andiamo a mettere il silenziatore normale Perché vi velocizza l'arma Come canna Andremo a mettere sempre la terza scelta In questo caso è la VDV rinforzata Ma sulle altre armi comunque è quella pesante rinforzata Quindi cambiamo la canna A questo punto andremo a togliere il sotto canna Perché non abbiamo bisogno del controllo del rinculo Visto che la utilizziamo da mid range Non da lungo raggio Quindi è un po' più facile da utilizzare Quindi andremo a mettere sempre il laser Tiger Team Che è quello che ci dà molta più velocità nei movimenti Andremo a cambiare il caricatore con quello da 45 Normale in questo caso O quello con minor capienza E poi andremo a togliere l'ottica Perché andiamo comunque a mirare da corto raggio E non abbiamo bisogno di un'ottica E qui ragazzi abbiamo due scelte possibili Quindi o il calcio o l'impugnatura Con l'impugnatura andremo a mettere l'impugnatura Sempert La penultima Che vi dà la possibilità di entrare in mira molto più velocemente Mentre con il calcio andremo a mettere l'ultima scelta Il KGB in questo caso Che ci dà molta più fluidità nei movimenti Io preferisco in questo caso il calcio E quindi questo è un assalto buildato da Sniper Support Se invece ragazzi andiamo a vedere come buildare una mitraglietta In questo caso ho già il settaggio pronto del PPSH E come vi ho detto prima Come volata andiamo a mettere il silenziatore normale Come canna andiamo a mettere la Task Force Che è sempre la migliore da utilizzare sulle mitragliette Come calcio andiamo a mettere il penultimo Il PMK Spetsnaz Per la fluidità dei movimenti durante i fight Come caricatore andiamo a mettere sempre quello con più capienza Ma non quello rapido E in questo caso visto che è un progetto speciale Con un'ottica molto buona Come vedete c'è solo il vetrino con il puntino al centro Ho scelto di mettere quest'ottica Altrimenti possiamo scegliere di mettere Il laser Tiger Team O l'impugnatura Serpent Per velocizzare l'entrata in mira Passiamo adesso ragazzi A come buildare un'arma di Vanguard Quindi in questo caso andremo a vedere L'ultimo fucile d'assalto Il KGM-40 Allora qui le cose cambiano Perché abbiamo 10 accessori E quindi sulla volata andiamo a mettere sempre il silenziatore MX Perché oltre a silenziare l'arma È quello che ci controlla meglio il rinculo orizzontale e verticale Prima era il silenziatore Mercury Ma adesso è stato nerfato E come vedete controlla solo il rinculo orizzontale Quindi non va bene Come canna andiamo a mettere sempre la più lunga Perché è quella che ci dà appunto più gittata Più velocità proiettili E più controllo del rinculo Come ottica ragazzi qui abbiamo più scelte Allora io mi sto trovando molto bene con la M38 Slate Che mi dà la possibilità di avere un'ottica 2,5x E la lastra riflettente Come altre scelte potreste mettere La G16 che vi dà un ingrandimento 2,5x E si utilizza molto la SVT 40 con ingrandimento 3,6x Per il calcio andremo a mettere sempre l'opzione che ci dà più controllo del rinculo In questo caso per il KG è la Krausnich 12 Come specialità Allora qui possiamo parlarne un poco Allora di solito sugli assalti mettiamo presa salda Perché ci controlla il rinculo durante un tiro sostenuto Tiro sostenuto sarebbe quando spariamo molti corpi continuamente Quindi questa è la prima scelta Come seconda scelta possiamo mettere Flemma Che ci controlla il rinculo iniziale Come terza scelta se non abbiamo una di queste due C'è Vitale che non ci controlla il rinculo Ma ci permette di fare gli stessi danni al collo e al busto Perché se non lo sapete ci sono 4 hitbox Testa, collo, busto e arti Quindi in questo caso se per esempio l'arma fa 45, 40, 35 Avremmo lo stesso valore di danni al busto Quindi sarà 45, 40, 40 Quindi in questo caso abbiamo presa salda Mettiamo presa salda Come kit andiamo a mettere sempre carico massimo Per avere subito le munizioni Come impugnatura andiamo a mettere quella in polimeri Perché è la sola che come per presa salda Ci controlla il rinculo durante tutta la scarica che facciamo Ed è una cosa molto importante Come caricatore andiamo a mettere di solito Sempre quello con più munizioni Ma che ci dà meno punti negativi In questo caso sarà la prima scelta da 60 Perché se andiamo a mettere la seconda È vero che ci dà un po' più di portata e danni Ma ci toglie precisione e controllo del rinculo E soprattutto rallenta l'arma Quindi come munizioni sugli assalti Andiamo a mettere sempre le allungate Che ci danno più portata E come sottocanna Di solito si usa il ferma mano Che ci controlla meglio il rinculo E ci dà precisione Ma su alcune armi come per esempio la carabina Cooper Si utilizza anche il M1930 O in alcuni casi anche l'impugnatura Calver Questa è da verificare Bisogna fare delle prove Quindi ragazzi Questo è il settaggio generale Che si utilizza per gli assalto E per i mitraglioni di Vanguard Adesso andiamo a vedere le mitragliette Quindi ragazzi Siamo qui con il mostro sacro La Wellgun Ho preso la Wellgun perché è l'esempio classico Di una mitraglietta che possiamo utilizzare Da cortissimo raggio Ma anche come sniper support Quindi ragazzi Allora Sulla volata va sempre messo Il convogliatore di rinculo Perché ci aumenta la cadenza E' vero che non siamo silenziati Ma una mitraglietta deve essere veloce Quindi non ce ne può fregare de meno Come canna abbiamo quindi due scelte Una è quella da corto raggio L'altra è quella da lungo raggio Quindi in questo caso Andiamo a mettere la Gawain corta Che ci aumenta la cadenza dell'arma Che andremo a utilizzare come una mitraglietta Pura e cruda Come ottica andiamo a mettere sempre Una con ingrandimento 1.35x E quello che vi suggerisco io E' l'ottica monoculare O la lastra riflettente Come calcio andremo a mettere Il calcio rimosso Perché dobbiamo essere defuretti Durante i gunfight Come specialità andremo a mettere Sempre una che ci migliora i movimenti Durante i gunfight In questo caso andremo a mettere Acrobatico o agile Io preferisco agile Perché ci da anche il cambio d'arma Più veloce Come kit andremo a mettere Celerità Per essere molto più veloci Come impugnatura Andremo a mettere Quella in tessuto Perché ci da più velocità Nell'entrata in mira E ci da più cadenza di tiro Mentre siamo in movimento Inoltre ci controlla anche Lipfire Come caricatore Dipende Perché di solito Andiamo a mettere Il caricatore Che ci da più cadenza Quindi in questo caso Sarebbe quello da 40 colpi Ma sono stati fatti Dei test Che anche con quello da 64 colpi Sulla wellgun Non perdiamo tanta velocità Quindi settaggio classico da 40 In alcuni casi bisogna provare E possiamo cambiare Come munizioni Quindi andremo a utilizzare Quelle a punta cava Perché le incendiare Sono state nerfate E non fanno più danni E come sottocanna Andremo a mettere Sempre il Mark 6 di base Perché ci accelera L'entrata in mira Quindi ragazzi Questo è il settaggio Per utilizzare Una mitraglietta Da corto raggio Adesso Se vogliamo utilizzarla Come sniper support Bisogna fare Alcuni cambiamenti Allora Per la volata Quindi Sempre Con vogliatore di rinculo Per velocizzare l'arma Come canna In questo caso Andremo a mettere Quella più lunga Che ci da Anche il controllo Del rinculo E ci aumenta La portata Dei danni Perdendo un po' Di velocità Ovviamente Come ottica Sempre la stessa Come calcio Potremmo Lasciare O quello Rimosso Se l'arma Ha un buon controllo O altrimenti Mettere Uno dei calci Che ci da Un po' Più di controllo Quindi in questo caso Sarebbe il pacco SA43M Come specialità Andremo a lasciare Sempre una Che ci velocizza Come kit Anche qui Potremo lasciare Celere O potremo mettere Carico massimo Per avere Le munizioni Come impugnatura Ragazzi Come vi ho detto Per il calcio Se è un'arma Che C'ha un buon Controllo Del rinculo Lasciate quella In tessuto Altrimenti Mettete quella In polimeri In questo caso Vado a lasciare Quella in tessuto Perché la Welgan Ha un buon Controllo Del rinculo Come munizioni Quindi in questo caso Io vi consiglio Di passare Alle 64 Perché Visto che andiamo A sparare Più lontano Qualche colpo Andremo a missarlo E quindi Meglio averne Di più Come munizioni Potrete lasciare Le punta cava O se preferite Mettere le Allungate Per avere Un po' Più di portata E per il Sottocanna Stesso discorso Che per l'impugnatura E il calcio Se è un'arma Con un buon Controllo In rinculo Andremo a lasciare Il Mark 6 Di base Altrimenti Possiamo mettere L'impugnatura Carver Che ci da Più precisione E ci controlla Anche l'ipfire In caso Dovremmo utilizzare Un'arma Da corto Raggio Se poi Veramente Quest'arma Smira Molto Andiamo a mettere Il freno A mano Sulla Welga In questo caso Lasciamo Il Mark 6 Base Quindi ragazzi Spero che questo video Vi è stato Veramente utile Se avete delle domande Non esitate A lasciarmi Dei commenti E mi raccomando Abbonatevi Al canale E attivate le notifiche Se non l'avete ancora fatto Inoltre vi invito A seguirmi Su tutti i miei social Facebook Instagram Youtube Twitch TikTok E il gruppo Telegram Eloadout De Siricov Bella